buongiorno signore e signori e benvenuti alla parte numero 25 della nostra video di Pokemon Platino allora, la scorsa parte dove abbiamo finito l'esame per rosa però dovremmo prendere a liberare e cacciare un po' come dalla nostra squadra per prendere l'uovo di rivolu dal nostro amico Marisio Marisio, Marisio, Marisio va bene vola vediamo nel box e nel box adesso sto qua non so che sto qua allora metto qua c'è Drapion solo per adesso bene andiamo possiamo rientrare all'isola ferrosa per l'ultima volta dopodichè andremo a sfidare la palestra però sfideremo l'ultima sia nella palestra e non nel campale lo sfideremo nella prossima parte questo è quello che dovrò fare tutto il percorso da capo ho come se lo vedo qui Jeff io ogni volta come ogni parte mi dimentico di prendere i 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 su questo pochino e la visione tra l'anni noi ci andiamo di qua si scende questi li ho ricordato tutti andiamo andiamo spiegato spiegato parliamo con Marisio e ci daranno di idioma lo farò spiegare su una parte e uscirà il Riolu più o meno 1 lo riolano finito 30-32 lo vedremo spero si evolverà amici z spero che si evolverà il Lucario molto presto credo che farà parte la mia squadra finale dovrà essere dovrà essere l'Internet l'App Proltrex Gabite e l'Axtray Gabite e il Lucario spero ma forse li ho tirati nella posta Lucario dovevo vedere bene qua andiamo in questa grotta per una metal coperta per una metal coperta per volvere un X o in SteelX per tenere a scambio quindi non lo potremmo fare spero con due gli intendi wifi si potrà fare si può che metterla si stanno proprio seccando vedrò come non è vicino di repellente adesso per una cosa ho suolo vado vado a Canalipoli e vado a comprare immediatamente di repellente compro ne compro repellenti max 5 5 45 l'alongiata bene così almeno saremo a posto che da altre parti adesso andiamo a cominciare nella palestra spederemo tutti gli allenatori tranne il capo palestra bene adesso io metto 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 speriamo un po' la cipa bite questa palestra la so benissimo sono degli scenderi che salgono e scendono qua c'è un errore gravissimo lasciando cipa bite composta cerco di riveliare ma la posso usare più di due volte la coppia questo è come due amici adesso con una cipa una cipa è il livello 42 se lo cambio e mando 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 proclets mando proclets bene adesso qua dovremmo salire mando ma no devo garantire da qui da qui si scende si scende si scende si scende si dovremmo salire questo si sale e poi si scende si scende si scende si scende si scende bene bene ciao ciò 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 mi ha detto mi era è etc m ti Name quale чер ha un marковo l'azienda un'altra mattinamico bene chiamila chiamila io devo vedere un secondo a vero si stilix user poi un altro stilix livello 40 40 40 l'ultimo allenatore ora una squadra di bronzo con me il capo con il capo allora dopo poco 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 no un bs e che fa dopo poco forse resta poco buon armonio a parte 4 finira bene la parte è terminata io voglio dire una cosa e ancora se non è il mio meglio per fare i video però ancora siamo 5 iscritti voi iscrivetevi in molti e niente e a parte finita a volte vi commento iscrivetevi ciao alla prossima